Ma complicata me l'aspettavo, però pretendevo un altro atteggiamento perché continuavo ad avere paura, le cose diceva che vale per il suo nome, il braccino come si dice, non pretendo che battiamo una squadra così per giocarcela, il braccino, la difesa, insomma, abbiamo cominciato a giocare al terzo set come a Roma, soprattutto, solo che questa squadrona a Roma è finita 3-0, però non riusciamo a iniziare le partite, iniziamo sempre 4-0, siamo andati a vedere tutte le partite 4-0, si inizia così e dopo, allora è complicato. Il cambiamento più importante è quello del braccino schiacciatrice che ha bisogno di assestarsi perché è un ruolo non nuovo, perché lei ha giocato schiacciatrice per molto tempo, però due anni che non riceve, attacca, comunque l'atteggiamento suo è positivo, è agressivo, non è la migliore partita per assestarsi, però le ha rubato tutto molto addosso, le ha messo in difficoltà, ha preso due palle, la prima cosa che andavano fuori, era molto tesa, però penso che una mossa che bisogna esistere, ma è un'altra partita difficile, un campo molto difficile, però al di là degli addorzati, se noi non troviamo prima la nostra squadra, è inutile che parliamo degli addorzati, questo è quello che ho detto oggi, che dico prima di ogni partita, che facciamo noi quando abbiamo la palla, poi c'è la parte che facciamo quando la palla ce l'hanno gli altri, che bisogna essere fiduci, amore, difesa, tutto quello che vogliamo, prestazione, e la palla sempre in situazioni molto e l'anoro, però quando noi abbiamo la palla dobbiamo lavorare meglio, e dobbiamo lavorare in modo più agressivo, soprattutto.